Musica Si occupa di lui Klein, Kalinowski pronto ad andare in aiuto, non è una grande idea visto che deve rincorrere Bramos Palleggio, arresto, tiro e canestro da parte del capitano 5 secondi per l'attacco di Brescia, Klein dalla rimessa, Burns allontana Kalinowski Finta il consegnato, poi si alza sulla sirena e trova il jumper del più 5 Dalla punta Sherry, il blocco di Burns, Palleggio, arresto, tiro, canestro, 13 a 4 e time out di Raffaele L'assist per il comodo appoggio di Wittmar Con le Crawford contro Casarin, lo fronteggia, poi gli tira in faccia ed è di nuovo in doppia cifra Il vantaggio della Germani, la voce chiara di Luca Vitali a chiamare lo schema Kalinowski semina Bramos e poi prova a rimontare ma senza successo Dopo il time out, Cepel sul blocco di foto, Palleggio, arresto, tripla Bramos che in precedenza ha sbagliato un altro libro Parrillo abbandonato dalla difesa, tutti in piedi in panchina Prova a attaccare Burns, torna indietro, rimane addirittura contro Ristic E allora c'è un vantaggio da qualche altra parte, Dei, spalla canestro contro Sherry Si gira, tira, segna, meno 6 Palleggio, arresto e tiro, torna Sherry Erano entrambi buoni tiri Altro recupero di Luca Vitali che poi lancia Klein Sottomano del più 12, time out di Raffaele 5 punti di David Moss Con un paio di canestri Tonut sfruttando il blocco di Widmar Anticipato Kalinowski, il pallone va da Vitali Che prende, spara, segna Più 11, Germani Contropiede per Venezia Che ancora una volta col vantaggio si muove relativamente bene Lo fa Cepel leggendo il rimorchio di Foto Meno 10 8 a 5 Venezia, il conto dei rimbalzi offensivi in questa partita Sherry disorienta Foto Arresto, tiro, canestro Brescia non trova più il canestro Adesso c'è grande tensione, il pallone pesa sempre di più Cepel contro Kalinowski di fisico Altri due, meno 4 Di coach di Raffaele Forse anche della reazione di Foto su quel gioco a 2 Foto che si lascia passare da Kalinowski Potenziale gioco da 3 Brescia torna a mettere le mani sulla partita C'è ancora vita per Venezia Dei contro Ristic Passo laterale Bomba! Meno 2 Eccolo, gioco a 2 Cambia Widmar Palleggio, arresto, tiro e canestro Di Luca Vitali Lo sbaglia male Austin Dei Vince Brescia Buongiorno Sì Sì Viet